e mia prossima conferenza a palermo sì sì mia prossima conferenza a palermo prossima a palermo sì ma cosa c'entra questa mia opera con palermo cosa c'entra questa mia opera con palermo e ferrara pittrice palermo palermo bell and breakfast in infeu di palermo concesso io andrò a dormire qua morire dormire sognare forse farò anche forse anche pranzo cena il 15 aprile subito dopo pasqua il 15 15 aprile ricordatevelo bene 15 aprile 2015 palazzo zi ino sede del palazzo zi ino concesso sì ma con nome cambiato la lama e la rosa il marinaio delle antille il tribuno egizio la strip del serpente con matriachi tu patriachi sì sì alle ore 17 sarò il palazzo zino concesso concesso mi cortesemente da federico secondo di sveglia no di svezia e di sveglia ho pensato per altavilla e federico secondo di sveglia ho pensato per altavilla federico secondo di sveglia ho pensato per altavilla in culo ti c'entra ma in testa no ed io qua andrò a dormire dall'ufficio cultura dell'assessorato la cultura del comune di cultura di palermo